Ciao, sono Raffaele, sono il cantante del Circolo delle Farfalle, ho 23 anni, vengo da Capri e mi chiamano La Divina. Ciao, sono Pier, il chitarrista del Circolo delle Farfalle. Ciao ragazzi, sono Luca, il dirimpettaio del Circolo delle Farfalle. Ciao, sono Cinzix. Sì, non so che toglie. Ciao, sono Cinzix. Ciao, sono F. Ciao, sono Melissa. Ciao Belli, sono Vincenzo Icastico e gestisco un canale di musica. Penso che il Natale sia, non lo so, volevo dire che lo odio e poi Luca ha detto che è la risposta sua e che quindi non potevo dire la risposta sua perché aveva detto una cosa ovvia come la mia. Comunque a parte questo mashup, il Natale se magna, se beve, se gioca, se sta coi parenti e non portatevi gente che vince sempre ai giochi che se no la nonna si incazza. Il Natale è fighissimo, è tipo il McDonald del cristianesimo, mi piace da morire. Una festa che non mi dispiace, forse è giusto per il fatto di vedere tutti i parenti. Non è vero, mi sta proprio sul cazzo. Il Natale non lo sopporto, le lucine per strada a ottobre, fatela finita. Mi assumendo, è una festa un po' commerciale, però mi piace perché riesco a vedere tutti i miei parenti insieme. No, ma te sto per pensare in questo momento. No, è una festa bellissima. Dinga bè, dinga bè. Io adoro il Natale. Diciamo che non ha proprio questo spirito natalizio, lo sopportiamo, lo sopportiamo. E pigiama The Pile. Cenere e carbone perché io vengo da un paese di mille persone e per punizione, quando ero bimbo, mi facevano trovare cenere e carbone nel, vabbè, insomma, nel comignolo di mia nonna, di casa di nonna. Mia zia mi regalò a un bambino, 12-13 anni, scarto questo pacco meraviglioso, mi ha regalato uno dei miei incubi peggiori. Un pagliaccio de metallo, arto così, con solo gli occhi e il cappuccio rosso tipo Babbo Natale. È stata una cosa orrenda, è orrenda. Scusa zia, ma probabilmente come ti è venuto a mente? Eh, non posso dirlo perché probabilmente vedevano questo video. Non lo so, sinceramente a Natale non ho mai ricevuto regali brutti, perché chiedevo sempre quello che volevo e quindi di conseguenza non ricevevo altro. Oddio, scusa nonna, un maione con tipo delle renne pelose sopra che facciano dlin 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 e mia nonna voleva che lo mettersi a Natale. Non l'ho fatto mai, scusa. Eh, cazzo, regalo più brutto, regalo più brutto, regalo più brutto, ma cazzo, un santino. Brutto, mamma mia. Porta chiavi vari. Sicuramente qualche maglione di lana regalato da qualche prozio. I cornici, quelle per le foto, che avete mai usato una cornice voi per le foto? Io no. Avrei tanto voluto riciclare il pagliaccio ma non se l'è preso nessuno. Forse qualche maglione ma non me lo ricordo. Come sopra? No. Sono sincero. Il maione di nonna con le renne sopra i campanelli di niente. No, non ho riciclato mai i regali di Natale. Forse il santino avrei dovuto, però al circolo delle farfalle glielo porto la prossima volta. A casa. A me piace il Natale sotto la neve, quindi che ne so, in montagna, baita, con la wifi però. Vabbè, il Natale è neve, caminetto, è... Se non lo passassi con la mia famiglia, forse in vacanza da qualche parte, qualche posto finissimo, magari montagna. Lontano da dove fai stagione il Natale. Ai Caraibi. A casa, da solo, rinchiuso, in una stanza senza finestra e senza porte, con un fossato di coccodrilli intorno. Sì. No. Sì. Passo il mio Natale in famiglia, quindi no. Non mi ricordo. Io passo il Natale in famiglia, quindi... Sì. Assolutamente no. C'è nato Gesù, quindi anche, cioè, ci vogliono di l'Immacolata Concezione, però qualcosa la Madonna avrà dovuta pure fare. Sì, perché... cioè, non lo so, non lo so questo. Penso di no, dai, super, perché... Me lo auguro. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Miracolo. Sì. Fantaghiro, uno, due, tre, quattro e cinque. Come si chiama? Quello con Valeria Marini che fa... Principessa è il principe dei sogni, là l'ago, aspetta. Sorellina è il principe dei sogni e vabbè, mamma ho perso l'aereo. Una poltrona per due, mamma ho perso l'aereo e mamma ho perso l'aereo due. Non li so, i film di Natale, non li amo. Niente cinepanettoni, quindi mamma ho perso l'aereo uno, mamma ho perso l'aereo due, mamma ho perso l'aereo tre, mamma ho perso l'aereo quattro e tutte le volte sto ragazzino non ha capito come si è pieno aereo. Vabbè, mamma ho perso l'aereo. Poi Love Actually, che è fighissimo, e non me ne vengono altri. Passo. Mamma ho perso l'aereo, Elf e il Grinch. Grinch, Frozen è un film di Natale, è un cartone di Natale. Frozen e il Grinch. Mamma ho perso l'aereo e... Valgono anche porno? No. Ehm, mamma... Non li so i film di Natale, maledizione! Scusate, oggi c'ho un po' di... Ciao ragazzi! Continuate a seguire i vari vlog che usciranno di questo video. Quindi iscrivetevi ai vari canali, ma soprattutto a quello del Circo dei Farfalli. Scusa, posso tirare acqua al mio mulino? Ciao Farfalline! Ciao Farfalline! Buon Natale a tutti, iscrivetevi al canale del Circo, e andate a vedere le altre domande sul canale di Cinzix, di Vincenzo Icastico, di Fraioli. Buon Natale! Si è stato bellissimo, vi salutiamo tutti quanti. Mi raccomando, tutto questo è sì perché è divertente, ma andatevi a vedere il mega video di Natale, ci siamo divertiti tantissimo. Proverete altre domande uguali a queste su il canale di Cinzia, di F e di Vincenzo. È molto figo perché ci saranno tutte queste domande, no? Che gireranno fra i vari canali, quindi se volete vedere la parte 2, la parte 3, non so come sarà diviso, andate a vedere sul canale degli altri. E quindi è stato bellissimissimo, vi amiamo, ciao, buon Natale, e ci vediamo l'anno prossimo col volume 3. Ciao a tutti, grazie per aver visto il video. Vi ricordo di fare un salto sul canale di tutti quanti, di iscrivervi e buon Natale. Ciao, grazie per aver visto questo video. Vi ricordo anche l'altro video che abbiamo fatto tutti quanti insieme per questo Natale. Se volete vedere tutti quanti cosa facciamo nella vita, trovateci sui nostri canali. Ciao a tutti, iscrivetevi a tutti i canali del mondo! Ciao belli, ci vediamo sul canale del Circolo delle Farfalle con il video di Natale, e ci vediamo sul canale mio. Mi raccomando, iscrivetevi a tutti i canali, Circolo delle Farfalle, tutti quelli che parteciperanno e ciao! Grazie per aver guardato il video.